Termina 2-0 la sfida tra Penne e Capistrello. Al comunale i Vestini ottengono tre punti importanti per la corsa a play-off al cospetto dei Rovetani, che nonostante la sconfitta rimangono al quinto posto in classifica. Mister Pavone schiera il solito 11 di partenza con Cacciatore e le spalle di Rosini e di Ruocco. Sul versante opposto Mister Iodice deve rinunciare allo squalificato Luca De Meis e lancia Pollino di Francescantonio ai lati di Aquino. Fisca il signor Di Carlo di Pescara, codiuvato da Bosco e Gian Cristofaro. In avvio sono i locali a dettare i ritmi del gioco e alla prima occasione passano in vantaggio. Cacciatore sorprende di Girolamo con una punizione da 20 metri, portando in vantaggio i suoi dopo soli 10 minuti. Passano due minuti e il penne raddoppia. Sugli sviluppi di un corner il pallone arriva sul destro di Casimirri, che scaraventa un tiro potente sotto la traversa raddoppiando i conti. Ospiti che non riescono a reagire ancora i biancorossi in avanti al ventesimo con Cacciatore, che trova Casimirri nell'area di rigore, ma il suo tentativo termina a lato. Azione fermata per fuorigioco. Al 37esimo, sugli sviluppi di una punizione, Rosini calcia a botta sicura, trovando la respinta del portiere. Per vedere il capistrello dalle parti di D'Amico bisogna attendere il 39esimo, quando Capitan De Meis lascia partire un tiro cross che per poco non c'entra lo specchio della porta. Il primo tempo si chiude con la triangolazione tra Donatangelo e Cacciatore, ma il numero 4, al momento del tiro, si fa anticipare. Si fa riposo sul 2-0. La ripresa si apre ancora con i padroni di casa alla ricerca del Tris. Al 54esimo, Rosini imbuca per Cacciatore, che tenta il cucchiaio, ma di girola, ma non intuisce l'intenzione e blocca la sfera. In Granata provano a reagire, se i giri di lancette dopo Pollino serve un buon cross da Quino, che però è tardo da arrivare. Al 75esimo, il neontrato con Letta, ben servito in profondità, colpisce la traversa, sciupando l'occasione di chiudere definitivamente il match. A 5 minuti dal fischio finale, Cacciatore lascia partire un sinistro violento che regala solo l'illusione del gol. Finisce così, con la vittoria dei ragazzi di Pavone, che salgono a quota 37, portandosi a due punti dal quinto posto. Un successo che avvicina la salvezza matematica, concedendo forse di sperare in qualcosa di più. Non dà meno il capistrello, che anche senza riportare i tre punti a casa, resta in buona posizione per obiettivi importanti. Le interviste di Mattia D'Achille. Siamo con Mister Iodice. Mister, la sensazione è che quei due gol in due minuti vi abbiano tagliato le gambe. Sì, ma non è la prima volta. Sarà la quindicessima partita che subiamo gol nei primi 5-10 minuti. Significa che a livello mentale abbiamo dei limiti. Questo sicuramente sarà colpa mia, perché non riesco all'inizio a caricarli bene. Però ormai è diventata un'abitudine prendere gol all'inizio. Poi casomai ci svegliamo, però poi non sempre ti riesce a recuperare la partita. Però detto questo, secondo me oggi la partita l'ha vinta chi voleva vincere la partita. Hanno avuto più voglia, più cattiveria, proprio nell'impatto della partita, nell'atteggiamento iniziale. Perché come detto prima, la partita si è decisa nei primi 10 minuti. Poi dopo, credo sia stata una partita equilibrata. Al di là di qualche ripartenza, allora alla fine magari era normale, perché noi volevamo recuperare la partita. Oggi veramente è una partita, devo dire, devo fare complimenti ai miei ragazzi, perché l'abbiamo giocata sotto il profilo tecnico, tattico, in maniera perfetta, anche mentale. Quindi abbiamo fatto una grossa partita contro una squadra, un'ottima squadra. Stiamo là, attaccati al treno playoff. Ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere, perché innanzitutto dobbiamo archiviare la pratica salvezza, manca ancora qualche punticino e poi ci dobbiamo credere fino alla fine, vivere partito per partita.